30 anni di salvataggi, evoluzioni tecnologiche e corse contro il tempo. In provincia di Belluno il servizio deli soccorso taglia un traguardo importante che verrà celebrato con una pubblicazione che accompagnerà una mostra. Abbiamo pensato di raccogliere alcune immagini dalla nostra attività quotidiana e raggrupparle in un libro, in un photobook che presenteremo all'interno della manifestazione oltre le vette a ottobre a Belluno. Questo sarà uno degli appuntamenti che ci daremo. Dopodiché da quelle foto vedremo di trarre alcune immagini e le trasformeremo in una mostra itinerante che potremo inaugurare laddove è necessario e laddove poi i vari paesi della provincia vorranno in giro per la provincia di Belluno. Le foto testimonieranno non soltanto l'impegno di un gran numero di soccorritori ma anche la progressiva evoluzione tecnologica che si è potuta osservare nella gestione delle emergenze sanitarie. Ci sarà chiaramente anche una parte storica. È chiaro che la tecnologia si è evoluta, noi abbiamo sfruttato questa evoluzione, il perno comunque del soccorso rimane sempre l'uomo, l'addestramento, la preparazione e anche la passione. Grazie.